Il progetto inerente alla realizzazione dell'aeroporto del Mela varca la soglia dell'aula consigliare di Palazzo Longano. Ieri sera infatti il Comitato Pro Aeroporto ha presentato al Consiglio Comunale di Barcellona Pozzo di Gotto e dai cittadini intervenuti l'idea progettuale della struttura che dovrebbe sorgere a camicia. Durante l'incontro è stata dimostrata la simulazione di un atterraggio attraverso una videoproiezione curata dalla pilota civile Gaetano Recupero. Ad illustrare il progetto ai presenti tra cui il Sindaco Maria Teresa Colli che è del Presidente del Consiglio Angelo Paride Pino è stato l'ingegner Carmelo Di Bartola. È chiaro che rappresenta un ulteriore momento di informazione per la popolazione e una simulazione assolutamente tranquillizzante rispetto a dei dubbi che erano stati dimostrati nel passato. dubbi che riguardavano sia l'impatto acustico e l'impatto atmosferico. Come possiamo notare la nostra pista sarà una delle poche in Italia che impegnano il territorio per pochissimi minuti. Nel nostro caso questa sera vedremo che il territorio è appena impegnato per due minuti. Io devo dire che all'inizio ero un po' scettico sulla realizzazione però dopo aver partecipato ad un convegno dei progettisti. Ho ascoltato l'ingegnere Di Bartola, l'ingegnere Recupero e devo dire che i numeri da loro illustrati sull'impatto ambientale sembrano compatibili quindi non vedo nessun ostacolo alla realizzazione che ripeto sarebbe un tocca sana per tutto il nostro Interland.